ora che siamo un team possiamo lavorare insieme per esempio questi questi arbusti qui non sarai in grado di tagliarli tu stesso per passare attraverso ma col mio aiuto e con la concentrazione saremmo capaci di farlo prova a concentrarti e ti aiuterò ma se non ricordo male bisogna esatto tenere premuto ah giusto ok ho ricordato che cos'è quella barra quella barra serve appunto a dedicare l'abilità speciale che possiamo utilizzare insieme a lei ragazzi ho deciso una cosa leggo solo i dialoghi fondamentali se sono tutorial li saltiamo un attimino quando mi chiami comunque devo riposarmi un attimino prima di poter riutilizzare l'attacco infatti se vedete ci mette un attimino prima di riscaricarsi la barretta questi qua sono i punti di salvataggio ne salviamo ovviamente la 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 mi piace molto portare questi giochi un po' di nicchia perché sono veramente molto ben fatti sono belli da giocare tra l'altro abbiamo livellato che dove si fosse impallato il gioco ci fa vedere cosa c'è a me dicevo si può utilizzare lei anche per attaccare vedete molto molto forte tra l'altro cioè non shotta tutti ma buona parte comunque quindi molto molto importante ok ok adesso cominciano ad esserci nemici un pochino diversi stiamo un attimino attenti a non prenderci botte che questi lanciano cose me li ricordo io che lanciate cose voi non me lanciare non lanciare le cose non si fa attivo ragazzi ok qua c'è dell'erbetta niente soldini che spavento non me lo ricordavo bam questo che cos'era? sto prendendo un sacco di botte è fortuna che qua non abbiamo solo 3 HP è tenuto dello schifo verde che non ricordo esattamente che cosa c'è è appiccicoso ok non tutto mi ricordo mi ricordo diciamo abbastanza le basi di come va avanti la trama e cosa succede ovviamente tra l'altro i generi videoludici che verranno trattati sono molto molto belli come che adesso siamo praticamente arrivati alla fine le hitbox non sono eccellenti nonostante sia la legendary edition quindi la versione diciamo migliorata del gioco rimasterizzata infatti se giocate l'originale è un pochino più grezzo di questo però tutto sommato non era comunque male ce l'abbiamo fatta questo è il punto dove mio padre ti ha trovato non era suo nonno attenzione vedo alcuni demoni laggiù che cosa potrebbero farci qui nascondiamoci non sono amichevoli non sembrano amichevoli questi sono appunto i demoni sono i nemici degli umani come abbiamo letto all'inizio è questo cherry si è sicuro che sia questo il magilith? l'iscritti del professor giro erano ambigui se attiviamo questo magilith saremo in grado di ottenere grande quantità di energia magi è un magilith ok ne ho visto uno così anni fa ma questo qui è rotto ah no ma quello lì era rotto abbiamo assolutamente bisogno dell'energia di questo magilith secondo il come si dice in italiano aiuto secondo le ricerche del professor giro l'energia del guardiano di questa foresta potrebbe essere capace di triggerarlo il guardiano è da molto tempo dormiente sarà in uno stato di sonno veglia non dovremmo avere problemi a sconfiggerlo presto avrò la mia vendetta su questi stupidi umani prepariamoci per evocare il guardiano calum questo è terribile se svegliano il guardiano della foresta attaccherà il nostro villaggio dobbiamo fare qualcosa pensa che riusciremo a fermarli? si è pericoloso dovremmo essere dovremmo avvisare qualcuno ma non c'è tempo non preoccuparti gli faccio io il culo a stelle strisce il guardiano è sveglio attenzione è più potente di quello che avevamo pensato tanto sentite la musica che è la stessa del primo gioco delle battaglie lasciamo che la bestia vada a distruggere il villaggio torneremo a finirlo dopo ovviamente no perché noi siamo qui onda okan dobbiamo fare qualcosa altrimenti attaccherò il mio villaggio dobbiamo provare a fermarlo prima che sia troppo tardi certo sapevo che potevo contare su di te ti aiuterò solo non non lasciare non so come si traduce ok? si aveva detto lasciare io? ho questo boss non è molto complicato basta portarci un pochino d'attenzione che vedete le battaglie sono molto in vecchio stile colpo e poi lui fa un attacco colpo e lui fa un attacco easy easy tanto il primo boss quindi ok quasi fatta aia yes un po' scarsetto vabbè che siamo a difficoltà bassa la prima volta lo giocavo a difficoltà massima ho molta fatica a dire il vero level up perfetto salito attacco difesa e vita ottimo si è attivato il magilith immagilith sta brillando non avevo mai visto farlo prima è questo ciò di cui i demoni stavano parlando c'è qualcosa scritto sopra lore ipsum dollar sit amet tanto questa ragazzi è la frase base che c'è nei siti web precostruiti come se vabbè ma si usa anche generalmente comunque come segna posto appunto un segna posto quando deve esserci in quel punto un test viene inserita questa frase in latino sta brillando che diamine e stiamo facendo il nostro primissimo viaggio nel tempo se non sbaglio andiamo nel passato giusto si esatto se vedete c'è una grafica molto inferiore rispetto a prima cosa che diamine è successo mi sento diverso meno dettagliata che ne dici Tecalam è lo stesso si ora dove ci troviamo sembra un po' la foresta spellbook ma sento che c'è qualcosa di diverso riguardo ad esso potrebbe essere la mia imaginazione credo in ogni caso questi demoni stanno mettendo a rischio il mio villaggio hanno messo a rischio il mio villaggio dobbiamo tornare lì e avvisare tutti ti ricordi come tornare indietro si bene mi fido di te andiamo ok ragazzi dobbiamo tornare al villaggio ovviamente noi adesso siamo nel passato quindi come vedete la mappa è diversa perché noi ovviamente qui non abbiamo ucciso nessuno non abbiamo ancora fatto niente la prima volta che ci mettiamo a piede allora qui si entrava dal basso se non ricordo male tanti nemici sono più deboli adesso vabbè che abbiamo anche livellato quindi potrebbe essere anche molto questo questo dovrebbe essere sempre una stella yes 2 di 30 non sono tanti collezionabili nonostante il gioco comunque sia abbastanza longevo perché credo che almeno 6-7 ore dura tranquillamente questo secondo capitolo circa non sono molto sicuro di quello che ho appena affermato però dai dovrebbe essere così ok ai livelli vedo che si fanno molto velocemente a questa difficoltà che serve questo tron ah giusto vedete ci sono cose diverse ora nel futuro ovviamente ci sarà questo tron commesso qui perché noi nel passato l'abbiamo spostato se vi ricordate come nel vecchio gioco in cui le azioni passate ovviamente influiscono sul futuro lì c'è un salvataggio se non ricordo male i salvataggi curano anche vabbè qua il salvataggio è diretto non dobbiamo farlo noi a mano io esploro tutto perché voglio essere più potente possibile per la sezione di metà gioco in poi che comincia a diventare parecchio più complicata soprattutto quando andremo nel futuro ha veramente una trama molto molto carina tra l'altro quindi ohia mannaggia a te che metiri le cose ma che metiri eh tu potevi passare le pareti vero si però dobbiamo comunque fare il giro per forza mannaggia mi sbagliò il tasto perché nel vecchio Everland si attaccava con weed killer ah perché stiamo spaccando tutta l'erba eh certo certo mi dai soldi scusa quante monetine e mi ricordavo di te vedete qualche ricordino mi torna in mente questo lo spostiamo questo lo abbattiamo mo come passo lo sposto mannaggia eh le hitbox non sono eccellenti come detto quando ci possiamo ancora andare vero no però possiamo spostare questo qui ok però serviva qualcosa questa azione oltre che spostare su questo ok forse no serviva solo questo faccio così la poi questo qua ok guarda se sono un po' silenzioso però mi piace molto rigiocare i giochi passati soprattutto quelli che mi sono piaciuti questo è uno di quelli sicuramente quindi mi concentro anche un attimino perché voglio capire un attimo che cosa sto facendo insomma dai avete capito serve spiegare ogni cosa qua che non stiamo a palazzo chigi che poi cosa c'entra non lo so però ok siamo tornati al villaggetto giusto iabemi tra l'altro anche questa è la musica rivisitata del primo capitolo eccoci qua ovviamente qui il villaggio se non ricordo male non è ancora stato fondato perché questo è il passato infatti vedete che non ci sono case non c'è niente ok cosa un po' in panico il mio villaggio dove è finito mio padre i miei amici sono tutti spariti dobbiamo mantenere la calma deve esserci una spiegazione logica mio padre mi ha sempre detto che tutto ha una spiegazione logica sono sicuro che aveva ragione riguardo a questo è come se il mio villaggio non fosse mai esistito calma hai qualche idea su cosa possa essere successo? si oh davvero? beh questo è rassicurante deve essere connesso col fatto che abbiamo sconfitto il guardiano forse the took shelter in the mountain forse hanno trovato rifugio sulle montagne proviamo ad andare lì sono sicuro che tutti stanno stanno bene questo ovviamente spoilerino è il nonno di felon colui che ha fondato il villaggio beh che cosa ne sai? non abbiamo molti visitatori qui in giro state provando a scappare dalla guerra giusto? no bene state scappando da qualcos'altro allora non dovete non dovete avere nessuna paura qui siamo lontani da tutto il macello comunque ho deciso di rimanere qui intorno per un po' strano mi ricorda un po' mio padre non è del mio villaggio in ogni caso beh oddio e non sembra conoscere perché sia scomparso ehi calavo non fare molta attenzione a lui la guerra è finita molto tempo fa il mio pensiero è che sia un po' fuori di testa no questo qui cara mia è tuo nonno oh dobbiamo andare alle montagne se non ricordo male non ci sono gli incontri casuali nella mappa grizzly pass eccoci qui ah questa sezione del gioco me la ricordo un po' più della precedente perché più avanti ci sarà un indovinello level ha addirittura ci sarà un indovinello che mi farà non poco i bestialire lo dico io mannaggia spammò attaccolo eh voglio spammà me obblighi a Grazie per la visione!